Buonasera a tutti, con Ugo che adesso introduco che è esperto dell'Orchidee del Lazio, nel senso che è diventato insieme, poi ci spiegherà lui, ai ragazzi che si prendono cura di uno spazio davanti alla Biblioteca Nazionale di Roma e sono diventati custodi e poi lui ci racconterà questa esperienza e intanto comunque mentre eravamo in attesa di iniziare abbiamo già pensato magari a un nuovo ciclo oltre a gennaio-marzo del giovedì dedicato alla storia dell'arte, quindi insomma di idee ce ne sono, perciò di giovedì possiamo occuparne tanti. Adesso passo la parola a Ugo così ci raccontano questa esperienza molto urbana, se si può dire, della conservazione delle Orchidee, quindi passo la parola a te Ugo e grazie insomma per la tua disponibilità a partecipare. Prego. Io ringrazio voi e saluto tutti quanti. Buonasera, quindi il mio nome è Ugo Imprescia, sono socio del Giros e anche custode di Orchidee in rappresentanza di un gruppo di ragazzi di una impresa sociale con i quali sto portando avanti un progetto di tutela di Orchidee spontanee che sono cresciute in una zona di Roma forse la più urbanizzata e la più trafficata, quindi è una sorpresa veramente, perché il luogo dove sono spuntate queste Orchidee si trova a due passi dalla stazione Termini. Ecco, quindi il progetto che stiamo portando avanti di tutela delle Orchidee spontanee con questi ragazzi si basa praticamente sull'utilizzo di uno strumento che è il bilancio di sostenibilità. Che cos'è il bilancio di sostenibilità? È un documento annuale, una rendicontazione delle attività che un'azienda, un'impresa, un'ente svolge in diversi ambi, in ambito economico, in ambito sociale e in ambito ambientale, che è l'ambito che a noi interessa. Un ambito ambientale in maniera particolare riguarda quindi l'utilizzo che l'azienda, dall'impresa FADE, l'energia elettrica per il trattamento delle acque, dei rifiuti e anche la salvaguardia della biodiversità, cioè praticamente tratta di tutte quelle attività che hanno un impatto in questi tre ambiti e in particolare anche in ambito ambientale, che è appunto l'ambito che a noi interessa. Il bilancio di sostenibilità viene, come detto, redatto annualmente insieme al bilancio dell'esercizio economico finanziario. Ora, mentre quest'ultimo sta a caratterizzare l'oculatezza con cui l'azienda, l'impresa, sfrutta le sue risorse economiche sia in entrata che in uscita, il bilancio di sostenibilità sta a caratterizzare invece il comportamento virtuoso dell'azienda nell'ambito dell'ambiente in cui viene ad operare. Il bilancio di sostenibilità viene redatto facendo riferimento ad uno standard universale che è il Global Reporting Initiative. Questo standard praticamente stabilisce delle linee guida e prevede degli indicatori, ognuno dei quali fa riferimento appunto ad una specifica tematica. Questi indicatori sono raggruppati in quattro serie. Questo è lo schema generale del Global Reporting Initiative. C'è la serie 1 che fa riferimento a indicatori che riguardano tematiche di carattere generale. La serie 2 invece fa riferimento a tematiche nell'ambito economico, la serie 3 in ambito ambientale e la serie 4 in ambito sociale. Ecco, queste sono le quattro serie. L'ambito che a noi interessa, come dicevo, per quanto riguarda il progetto di cui mi sto occupando è l'ambito ambientale. Gli indicatori che si riferiscono a quest'ambito sono quelli della serie 300. La serie 300 che a sua volta si divide in otto indicatori, secondo delle materie. Quindi c'è l'indicatore che fa riferimento all'utilizzo dei materiali, all'efficienza energetica, a come viene trattata l'acqua, allo sbattimento di rifiuti, la compliance ambientale, cioè il rispetto delle normative in ambito ambientale. A noi, come ripeto, ai fini del progetto che sto svolgendo, interessa la serie 304 che riguarda la biodiversità. La serie 304 che a sua volta si divide in quattro informative e l'informativa che è stata utilizzata in particolare nel progetto che sto seguendo alla Biblioteca Nazionale Centrale è l'informativa 304.4 che appunto riguarda la protezione delle specie animali vegetali protette. L'informativa 304.4 recita appunto in maniera specifica, parla appunto di specie elencate nella lista rossa dell'UCN e nelle liste nazionali delle specie protette. La lista UCN comprende praticamente una serie di livelli di rischio a fronte delle specie vegetali trattate. Le liste nazionali a cui si fa riferimento qui in Italia è il repertorio della flora italiana protetta, che è gestita a livello nazionale dal Ministero della Transizione Ecologica, che mi sembra che adesso abbia ripreso la denominazione precedente, cioè il Ministero dell'Ambiente. In che cosa consiste quindi la rendicondazione? Cioè quindi in questo documento annuale vengono indicate le specie che sono l'oggetto della tutela, l'habitat nel quale queste specie proliferano e poi viene indicato anche il livello di rischio relativamente alle specie oggetto di tutela, facendo riferimento, come dicevo, alle categorie di rischio indicate nella UCN. A livello nazionale queste categorie sono state espresse nel libro Liste Rosse Regionali delle piante d'Italia. Questo volume è stato realizzato da Fabio Conti insieme ad altri autori. Ecco, queste sono le categorie di rischio previste nella UCN, appunto abbastanza chiare, e X fa riferimento a estinto, eccetera, gravemente minacciato, minacciato, eccetera. Poi c'è anche la X relativamente a quelle specie che sono minacciate ma dipende dalla zona in cui proliferano. Chi deve presentare il bilancio sociale? Il bilancio sociale viene presentato dalle società private su base volontaria, facoltativa anche per gli enti pubblici. Ma ecco perché le società private, anche se non hanno l'obbligo di presentare il bilancio di sostenibilità, lo presentano diciamo nella loro rendicazione annuale insieme al bilancio dell'esercizio economico finanziario, perché ovviamente è un ritorno d'immagine per le società e quindi vogliono mettere in evidenza il loro compartamento virtuoso nello svolgere le loro azioni nel rispetto dell'ambiente. e questo lo mettono ben in evidenza e ovviamente tutte le più grandi società hanno un bilancio di sostenibilità e impiegano anche diciamo incenti quantitativi economici per la realizzazione di questi progetti. È obbligatorio invece per alcune categorie di soggetti, come ad esempio le imprese di interesse pubblico, tipo le banche, assicurazioni eccetera, e poi gli enti del terzo settore che però diciamo hanno una certa dimensione economica e a livello di impieghi, di dipendenti. Mentre le imprese sociali hanno l'obbligo di presentare il bilancio di sostenibilità indipendentemente dalla loro dimensione economica. L'impresa sociale è l'impresa con la quale sto seguendo il progetto alla Biblioteca Nazionale Centrale. Ecco, allora, in definitiva, l'utilizzo del bilancio di sostenibilità per quanto riguarda un progetto di tutela, nel caso nostro, di orchidee spontanee. È uno strumento che praticamente consente di rendere il progetto strutturale, cioè valido nel tempo, perché impegna l'azienda quindi a monitorare e manutenere costantemente il progetto, a verificarne i risultati e rendicontare questi risultati annualmente nel proprio bilancio di sostenibilità. Quindi, diciamo, dà corpo al progetto di tutela che si vuole realizzare. Che appunto il bilancio di sostenibilità abbia importanza per le aziende private, lo dimostra ad esempio questo grafico, dove praticamente sono evidenziate le spese, che in questo caso si parla dell'ENI, l'ente nazionale degli idrocarburi, che ha una spesa per la biodiversità nell'arco degli anni, che praticamente arriva nel 2021 a quasi 15 milioni di euro. Quindi sono investimenti importanti, ma sono tutti investimenti che ovviamente l'azienda non la fa gratuitamente, ma perché sa di ottenere un ritorno di immagine. Nel 2020 c'è stata una flessione, probabilmente questa è dovuta al fatto che era l'anno della pandemia. E questo invece è un estratto del bilancio di sostenibilità dell'ENEL e appunto parla che relativamente alla centrale eolica in Romania vi è un'area appunto in cui ci sono delle rare specie di orchidee, che però non sono riuscito a capire quali sono, di che tipo, e praticamente sta attuando un progetto di tutela di queste orchidee della Romania che ha avuto successo, diciamo ecco, ha avuto successo, tant'è che appunto questo successo è stato in qualche maniera avallato dai biologi del giardino botanico dell'Università di Bucharest. Questo invece è il bilancio di sostenibilità della CEA, dove indica nella suo report annuale, stiamo parlando dell'ultimo anno utile, cioè il 2021, indica praticamente 45 specie protette nella lista rossa dell'IoCN e specifica praticamente sia la fauna che la flora che rientra in questo progetto di tutela. Quindi sono tre specie vegetali e 42 invece specie animali e indica poi che ci sono otto di queste specie in pericolo critico, sempre secondo la denominazione dell'IoCN, il livello di rischio dell'IoCN, 11 sono in pericolo e 26 sono invece considerate vulnerabili. Una specifica, diciamo, quali di questo fa riferimento alle tre specie di piante che sono oggetto di tutela. E appunto questo è lo stralcio del bilancio di sostenibilità e appunto specifica che la sua attività di captazione delle acque nella zona delle sorgenti di Santa Fiora in Grosseto sta attuando un progetto di tutela di piante dunali, dice, orchidee spontanee unitamente ad alcuni enti locali come il Centro di ricerca strumenti biotecnici nel settore agricolo forestale e l'Associazione Posidonia, appunto per lo sviluppo di questo progetto di tutela. Veniamo adesso ai progetti che io ho seguito in quest'ambito facendo riferimento, quindi utilizzando come strumento il bilancio di sostenibilità. E questo è un esempio della società privata in cui io ho lavorato in precedenza e nel 2010 mi sono accorto in maniera sorprendente che nello spazio verde di questa azienda che si trova praticamente attaccata al raccordo anulare di Roma ho avvistato una Ofris Bertoloni e questa azienda, ripeto, si trova a ridosso del raccordo anulare all'interno del raccordo anulare lì dove praticamente all'esterno del raccordo anulare esisteva, ormai un po' di anni fa, la campagna romana che era piena di orchidee spontanee ce l'ho testimonia Enrico Coleman che era appunto appassionato di orchidee spontanee che ha fatto una pubblicazione appunto elencando tutte le orchidee spontanee della campagna romana orchidee spontanee che non esistono più perché una cementificazione selvaggia ha praticamente distrutto gli habitat e quindi queste poverine piante non esistono più probabilmente queste piante che io poi ho ritrovato negli spazi verdi della società in cui lavoravo potrebbero essere il residuo di queste delle orchidee spontanee che popolavano in maniera abbastanza importante dal punto di vista quantitativo la campagna romana quindi appena ho avvistato questa office Bertolone ho cercato di attuare delle azioni per proteggerla cercando di collaborare con l'azienda che aveva il contratto di manutenzione del verde e l'anno successivo in effetti le Bertolone sono aumentate di numero e l'anno successivo tra l'altro la società avviava un programma di sostenibilità ambientale e quindi con l'azienda ho avviato quindi ho proposto l'avvio di un progetto di tutela delle orchidee spontanee che crescevano appunto negli spazi verdi dell'azienda e quindi adottando particolari accorgimenti in particolare per esempio per quanto riguarda uno sfalcio programmato e compatibile con la vita vegetale delle orchidee nel giro di sei anni praticamente da una singola Ofris Bertolone sono spuntate praticamente dieci specie diverse di orchidee in sei generi questo va bene uno stralcio del bilancio di sostenibilità dell'azienda in cui lavoravo che è appunto stato da me redatto e questa era la prima Orchis Bertolone che era spuntata poi appunto con la società di manutenzione abbiamo cercato di rendere lo spazio attorno il più agevole possibile togliendo tutte le erbacce questa è la piantina che praticamente un anno dopo sono spuntate altre piante e poi nel corso degli altri anni altre Orchidee spontanee come delle bellissime Ofris incubace e spagodes delle stupende Ofris apifere ecco qua volevo far vedere praticamente come abbiamo recintato le zone dove crescevano le Orchidee e abbiamo apposto poi in prossimità una piccola etichetta con il nome dell'Orchidea il periodo di fioritura eccetera l'Ofris feigodes come dicevo questa è la Neotinea tridentata e poi la Serapias vomeracea la Serapias parviflora l'Anacampis papilionacea la bellissime Spirantes spiralis l'Anacampis coriofora e quindi in definitiva come dicevo nel giro di sei anni sono spuntate dieci specie diverse questo è il pannello che poi è stato a me compilato che è stato allegato al report di sostenibilità dell'azienda con indicazione anche il grado di protezione e il livello di rischio il caso invece ecco volevo dire che nel caso della società privata dove prima lavoravo io poi sono uscito per pensionamento e il progetto di protezione delle orchidee è andato avanti per qualche anno e poi è sfumato praticamente perché è una cosa fondamentale perché il progetto è chiaro che ci deve essere una persona che lo segue costantemente e che ovviamente è competente diciamo nel campo ecco quindi è chiaro che mancando il riferimento di questa persona poi il progetto va a scemare nel 2016 invece mi sono imbattuto negli spazi verdi della biblioteca nazionale centrale dove appunto andavo per motivi di studio mi sono imbattuto in una serabbia sdomerace ho cercato quindi di inserirla anche questa in un progetto di tutela facendo riferimento all'esperienza che avevo fatto con l'azienda in cui ho lavorato e ho proposto questo progetto alla direzione della biblioteca nazionale centrale ma in quel tempo ma penso anche adesso la biblioteca nazionale centrale siccome non è obbligatorio non presenta il bilancio di sostenibilità negli anni successivi ho continuato a monitorare queste piantine praticamente poi sono spuntate altre un'altra specie la parviflora nel 2019 c'è stata una svolta perché la biblioteca nazionale centrale ha stipulato un contratto di manutenzione del verde antistante appunto all'edificio con una società con un'impresa sociale di Roma la Roda e con questa società abbiamo appunto avviato in maniera strutturale perché l'impresa sociale ha l'obbligo di presentare il bilancio di sostenibilità abbiamo quindi avviato in maniera strutturale un progetto di manutenzione delle orchidee che si trovano appunto in questi spazi anche qui facendo diciamo attenzione ai periodi di sfalcio recintando diciamo le zone in maniera tale che al momento che il luogo è frequentato dal pubblico che non venissero di qualche maniera soggette a calpestio e con questi accorgimenti anche qui praticamente nel giro di poco tempo sono spuntate altre orchidee spontanee abbiamo trovato nel 2020 una bellissima ofris epifera e poi dell'Espirantes spiralis quest'anno nel mese di maggio inizi maggio fino aprile inizi maggio è un'altra sorpresa sono spuntate una ventina di Serapias lingua quindi il progetto che sta andando avanti e che sta dando i suoi risultati ripeto che ha motivo di diciamo di successo inserendo questo progetto di tutela in un bilancio di sostenibilità che quindi ha validità nel tempo e qui appunto tutti gli accorgimenti che abbiamo attuato con i ragazzi della Roda per portare avanti in maniera diciamo strutturale e logica ecco il progetto di tutela delle orchidee spontanee quindi abbiamo pianificato l'attività di diciamo di sfalcio abbiamo recintato le zone in cui ci sono le orchidee abbiamo dotato di queste orchidee di cartelli esplicativi e quindi abbiamo in qualche maniera visto che erano i risultati ottenuti che ci sono stati in effetti e poi ecco ci siamo avvalsi anche dalla collaborazione di altri enti ad esempio l'ortobotanico di Roma c'è stato ovviamente una flessione di interesse purtroppo non di interesse di come dire di così di reazioni perché nel 2020 la pandemia ha rallentato tutto tra l'altro appunto non si poteva nemmeno entrare all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale adesso stiamo riprendendo piano piano e c'è anche la proposta di organizzare un convegno sulle orchidee spontanee all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale in collaborazione con Giros con l'ortobotanico di Roma e col Dipartimento di Botanica dell'Università della Sapienza di Roma ecco questa è la Serapias Vomeracea in fondo si vede appunto l'edificio della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma che è la prima che io ho diciamo avvistato all'interno degli Spazi Verdi poi è nata anche la Serapias Parvi Flora e questa è una immagine suggestiva molto suggestiva perché era l'aprile maggio del 2020 eravamo appena usciti dal lockdown totale si poteva uscire all'interno del comune ma non si poteva ancora entrare all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale però io ecco mi sono avvicinato dall'ingresso e con un teleobiettivo ho fotografato l'area in cui sapevo che c'erano le Serapias e ho visto praticamente che ne erano spuntate una cinquantina forse contente perché non c'era più l'accesso del pubblico poi è spuntata una bellissima piantina più di due o tre piantine di Ofris Apifera e questa è l'ultima nata di quest'anno del 2022 del maggio del 2022 questa è una foto fatta due o tre settimane fa dove appunto si vedono delle piantine di spirantes e spirales vicino all'edificio della biblioteca nazionale centrale ecco queste meravigliose spirantes e spirales questo è il prospetto da me preparato che mette in evidenza le specie protette della biblioteca nazionale centrale all'interno del bilancio di sostenibilità direi che a questo punto ecco possiamo io avrei finito qui ho qualche informativa sulle normative ma diciamo questo potrebbe essere oggetto di un'altra presentazione quindi direi che posso concludere qui la presentazione ecco grazie è molto interessante perché poi si è partiti da un punto di vista diverso questa volta partendo proprio da un documento un bilancio di un ente pubblico pubblico di un'impresa quindi grazie per questi approfondimenti anche appunto diversi dal solito adesso vediamo nella volevo aggiuntere appunto che è un'esperienza che può essere mutuata e applicata per esempi analoghi quindi in tutti quei casi in cui c'è uno spazio verde con delle orchidee e appunto l'azienda o l'impresa che si trova ad avere questo spazio verde può attuare un progetto di tutela inserendo le orchidee nel proprio bilancio di sostenibilità quindi diciamo è un'esperienza che si può sicuramente ripetere per altre realtà questo sì sicuramente perché è proprio un esempio appunto da replicare quindi anche chi è collegato veramente può prendere spunto ecco se magari ha qualche realtà del suo territorio simile si può veramente pensare di approfondire questa tematica di approfondire di approfondire di approfondire di approfondire Grazie a tutti.